Non so se è più bello della storia, però ha fatto un gol straordinario e direi che in questo momento, non in questo momento, diciamo da un paio d'anni credo che Cristiano Ronaldo sia il miglior centravanti che c'è, senza togliere niente agli altri si è trasformato in questo ruolo e quindi c'è solo da fargli complimenti per quello che ha fatto perché ha una lucidità e una bravura nel chiudere l'azione che è straordinaria.